Bentornati o benvenuti a Next Calls Generation. Oggi parleremo di sviluppo programmazione serverless e Azure Function con Massimo Bonanni di Microsoft che è in linea. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Per chi non conoscesse Next Calls Generation è un'iniziativa nata da un'idea di CSMT di alcuni dei suoi partner, tra cui il codice plastico, Pico Quadro, ForSolid, Trimi Informatica e l'Università degli Studi di Brescia. Appunto Next Calls Generation è un'iniziativa che punta a creare una community su tematica di sviluppo software e che cerca quindi di veicolare alcune delle tecnologie più innovative in termini appunto di coding e per ovviamente diffondere sul territorio la nostra esperienza e cercare quindi anche di creare sinergie tra possibili persone che partecipano e le aziende che partecipano appunto a questa iniziativa. Sul nostro sito www.nextcodesgeneration.it potrete trovare tutte le puntate vecchie che poi sono caricate su YouTube, potrete trovare alcuni articoli che abbiamo scritto in questo periodo, negli ultimi mesi e anche le nostre vecchie challenge di programmazione. Sull'instagram di CSMT Polotecnologico potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime iniziative di CSMT e ovviamente relative anche a NextCode e poi sul canale di CSMT Gestione, sul canale YouTube, potrete trovare tutti gli episodi vecchi. Ovviamente NextCode Generation è nata a novembre, i primi incontri erano dal vivo quindi non ci sono registrazioni, però da aprile in poi abbiamo iniziato a farli online a causa ovviamente della emergenza del coronavirus e quindi tutti quelli poi li potrete trovare. Sperando ovviamente nel prossimo futuro di poter riprendere a fare incontri anche dal vivo. L'idea iniziale era quello di fare un aperitivo tecnologico quindi magari ci troviamo a bere insieme qualcosa dopo avere ovviamente condiviso le nostre tematiche. Partiamo con la solita NextCode Challenge. Faccio sempre un breve recap perché magari c'è qualcuno di nuovo. Che cos'è NextCode Challenge? Ad ogni incontro viene proposta una sfida di coding. È possibile partecipare singolarmente o a squadre ed è possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione. Viene estilate costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2020. Quali sono i punteggi? Viene premiata qualsiasi soluzione corretta con un punto. Vengono dati cinque punti alla soluzione migliore e tre punti per quelli che si classifichano il secondo e il terzo posto. Su cosa basiamo la valutazione delle vostre soluzioni? Ovviamente sulla correttezza del risultato, sull'efficienza dell'algoritmo, sullo stile di programmazione, l'originalità della soluzione e ovviamente i commenti, la presenza dei commenti. Questa era la challenge precedente, che vi rileggo. Hai comprato troppo gin, ben 150 litri, vecchio briacone. Per farlo stare nella tua cantina hai bisogno di spostarli in bottiglie più piccole. Per esempio, qua c'è un esempio, supponendo che fossero 25 litri e di avere a disposizione 5 bottiglie delle seguenti dimensioni in litri, 20, 15, 10, 5, 5. Facendo due rapidi calcoli trovi 4 modi diversi per travasare tutto il gin. 15, 10, 20 e 5 con la prima bottiglia, 20 e 5 con la seconda bottiglia e 15, 5, 5. Se avessi 20 bottiglie delle seguenti dimensioni che trovate qua elencate, quante sono le possibili combinazioni di bottiglie che ti permetterebbero di travasare esattamente tutti i 150 litri di gin. Vi mostriamo la soluzione, 1304 e abbiamo scelto come vincitore la soluzione di Alex. Tutte le sfide questa volta che ci avete inviato sono risultate corrette e per la prima volta avete quasi tutti utilizzato approcci e algoritmi diversi. Speciale menzione appunto alla soluzione di Alex perché utilizzava un approccio di programmazione dinamica che si è rivelato molto efficiente nei tempi e ovviamente era con un ottimo stile di programmazione ben commentato e quindi abbiamo premiato quella soluzione. Interessante anche le soluzioni che sono arrivate seconde e terze, soprattutto anche un approccio ricorsivo di uno dei partecipanti. Troverete il codice della soluzione sul sito www.nextcallgeneration.it da domani. Vediamo quindi la classifica giornata. Alex è arrivato primo, secondo AC27041980 e terzo Massimo Forni, questo nella classifica odierna. Mentre nella classifica complessiva è al primo posto Massimo Forni, al secondo Alex e al terzo AC27041980. Vediamo che c'è una sfida molto serrata nelle prime tre posizioni, diciamo che sono sempre loro che si alternano per il momento alla prima posizione e quindi questo potrebbe essere ovviamente anche un incentivo per gli altri a cercare di far meglio, anche se vediamo che sono molto molto preparati e motivati tutti e tre a vincere il risultato finale. Presentiamo quindi la successiva challenge. Ti viene data un'opportunità di investimento unica, come quella che ti arriva sempre per email più o meno. Partendo da un capitale di un euro puoi scegliere una porzione fissa F del tuo capitale per scommettere sul lancio di una moneta ripetutamente per mille lanci. Se esce testa vinci il doppio di quello che hai scommesso. Se esce croce perdi quello che hai scommesso. Per esempio se F è uguale a un quarto, per il primo lancio scommetterai 0.25 euro. Se esce testa vinci 0.5 e così avrai come capitale totale 1.5. Al secondo lancio scommetterai 0.375 euro e se al secondo lancio si croce avrai 1.125 euro. Scegliendo F per massimizzare le tue possibilità di avere almeno un miliardo di euro dopo mille lanci qual è la probabilità che tu diventi un miliardario? Quindi siamo andati questa volta a cadere nel calcolo delle probabilità però c'è sempre diciamo un algoritmo interessante sotto che permette di trovare la soluzione. Bisogna assumere che tutti i calcoli siano esatti quindi senza arrotondamenti ma devi fornire la risposta arrotondata a 12 cifre dopo il punto decimale nel formato che avete di seguire quindi 0.12 numeri dopo la virgola. Ok come partecipare al Nextcode Challenge? Bisogna inviare una mail a challenge-nextcodegeneration.it la scadenza di questa sfida è domenica 5 luglio come oggetto Nextcode Challenge asterisco 06 e il nickname della vostra squadra. Come al solito mettete se siete un partecipante o più il vostro nome e cognome il linguaggio che avete scelto e il risultato che avete ottenuto. Ovviamente come allegato obbligatorio dovete inserire il codice del programma. Un'ultima cosa prima di lasciare la parola a Massimo perché vi ho già rubato troppo tempo. Se volete rimanere agganciati sulle ultime news di Nextcode potete aggiungere in rubrica il numero 371 168 8930 scrivere su whatsapp a questo numero Nextcode on e riceverete tutte le news relative a Nextcode. Vi metteremo in un canale broadcast dove potete ricevere appunto le ultime novità su Nextcode. Ok non abbiamo ancora stabilito quando sarà il prossimo incontro dal vivo quindi non abbiamo diciamo una successiva data da darvi. Vi terremo comunque aggiornati mandandovi una mail. Per quale motivo diciamo stiamo un po' vedendo che noi come porci sicuramente adesso tanta gente è ritornata a lavorare in ufficio quindi alle 5 e mezza magari è diventato un orario un po' dove la gente o sta uscendo dall'ufficio o sta tornando a casa oppure semplicemente stanno a fare un giro al parco. Quindi vedremo un po' se aspettare un attimo e ritornare magari con gli eventi dal vivo oppure se fare un altro ancora prima di agosto dove magari facciamo un evento diciamo conclusivo della stagione un po' riassuntivo. Comunque appena stabiliremo qual è la data e il prossimo tema vi manderemo sicuramente la news sui canali. Quindi ok lascio la parola a Massimo. Perfetto. Ti devo mettere. Sei già relatore? Eh condivido lo schermo. Vai poi condivido. Arrivo. Ok. Starto la presentazione. Dovreste vedere. Esatto. Perfetto. Allora prendo la palla io. Intanto grazie. Grazie di avermi invitato. È sempre un piacere per me essere invitato ai meetup sia come speaker ma anche come partecipante. Io vengo dal mondo community. Sono più di dieci anni che faccio il giro dell'Italia per le community quindi per me è una cosa meravigliosa. Mi chiamo Massimo. Lavoro in Microsoft come technical trainer quindi mi occupo di formazione. Ma il mio nome non è importante nel senso che tanto alla fine avrete i miei riferimenti. Quindi l'importante è l'argomento. Di cosa parliamo? Parleremo di due argomenti fondamentali. Parleremo del serverless quindi dell'architettura serverless. Che cos'è un'architettura serverless? E poi andremo in dettaglio su una delle tecnologie serverless che il mondo Azure che è il cloud di Microsoft propone. Ma vedremo che in realtà se vogliamo giocarci non abbiamo bisogno del cloud. Possiamo farlo anche on prem. Anzi dirò vi farò le mie demo senza utilizzare il cloud. Quindi a maggior ragione. L'importante è quello che vogliamo capire che a cosa serve il serverless? Quali sono i capisaldi che ci sono dietro? E cosa mi permettono di fare le function? E quindi cosa non mi permettono di fare? Ricordatevi che quando lavorate nel cloud ma anche on prem non è un problema di dove lo fate. Avete degli strumenti. Non avete un solo strumento. Avete degli strumenti. Come in casa avete il martello e il cacciavite. Il martello serve per risolvere degli scenari. Il cacciavite per altri. Generalmente non li invertite. Perché se li invertite non ottenete un risultato. Non fate nessun lavoro. Quindi alla fine. Allora partiamo dal serverless. Ok? Prima contestualizziamo di cosa stiamo parlando. Allora stiamo parlando di un'evoluzione della piattaforma computativa. Che va dal vecchio data center. Intendo vecchio non perché non sia di moda o perché non sia figo. Ma semplicemente perché c'è sempre stato dall'inizio dei tempi. Quindi l'on premise è il nostro data center a casa. La nostra sala server con i nostri DAC. Fino ad abbracciare quelle tecnologie che sono tecnologie tipicamente cloud. Quindi le tecnologie che prevedono un approccio simile a quello che abbiamo nell'on prem. Quindi il fatto di avere delle macchine virtuali on prem. Prenderle e farle girare così come sono in un mondo cloud. Si chiama IaaS per chi non lo conoscesse. Che sta per Infrastructure as a Service. Quindi perché? Perché è un mondo cloud vicino alla parte infrastrutturale. Mi devo occupare delle macchine virtuali. Mi devo occupare dei server. Mi devo nel senso delle macchine virtuali. Mi devo occupare dei sistemi operativi. Del patching della rete. Di aprire le connessioni di rete. Ovviamente tutto cloud. Ma molto simile a quello che faccio on prem. Lo step successivo se vado sul cloud è perché voglio sfruttare certe potenzialità. È perché voglio anche lavorare un po' meno di manutenzione, di gestione. Quindi l'altro step è il pass. Nel pass, platform as a service, io chiedo al cloud una piattaforma su cui sviluppare. E non mi voglio occupare, mi chiedo alla piattaforma su cui sviluppare e descrivo che potenza voglio. Perché? Perché vedremo che ci sono alcune domande a cui devo rispondere. Ma non mi voglio occupare dei sistemi operativi, della rete. È un problema che lascio al provider. Ah, estremizzando ancora di più, si arriva a un punto in cui dico, guarda, io devo fare qualcosa che scali. Perché voglio sfruttare il cloud e non mi interessa di farlo in un certo linguaggio. Ma di tutto il resto, della piattaforma, dei patching della piattaforma, dei patching del sistema operativo, non me ne voglio occupare. Ti do un pezzo di codice, vedremo. Ti dico quando questo pezzo di codice deve girare e tu mi garantisci che girerà sempre. Punto. Non mi devo occupare di altro. Andiamo a capire che significa questa evoluzione. Allora, quando sono on-prem, e comincio a pensare alla mia applicazione, ho tutta una serie di domande che arrivano in test e a cui devo dare risposta. Per esempio, per quanto tempo devo tenere un server attivo o devo gestire questo server? Questo me lo devo chiedere, perché questo impatta tante cose. Impatta intanto la manutenzione su quel server, consumo di corrente, consumo di aria condizionata, perché un server attivo scalda, quindi devo risparmiare. E tante altre domande. Per esempio, quanto deve essere grande il mio server? Per rispondere in maniera corretta, perché io spero che il mio business abbia successo, quindi probabilmente ho un aumento di carico. Quindi quanto deve essere potente? Quanta è la size? Oppure, non solo quant'è la size del mio server e delle mie macchie virtuali, quindi quanto grande lo devo comprare il server fisico? Esistono tutta una serie di domande. Quando mi sposto verso il cloud, nello IaaS, diventano un po' meno. Perché? Perché non compro server fondamentalmente, non li compro più. Li utilizzo e pago per l'utilizzo. Però ho ancora altre domande. Per esempio, quanto frequentemente devo patchare i miei server, le macchine virtuali? Perché quello è compito mio, quindi ogni quanto. E poi, come deployo il codice? È un altro dubbio che mi devo porre. Per evitare queste domande vado verso il pass. E qui mi chiedo però ancora, vedete che il numero di domande che mi devo fare diminuisce sempre di più? Ovviamente sono tutte condizioni che da qualche altra parte devo considerare, ma se vado a sviluppare la mia applicazione e vado verso il pass, mi rimane di chiedermi quanto grande lo voglio il server affinché scali? O meglio, quanto inizio, quanto grande è il mio server iniziale? Poi chiaramente il pass mi permetterà di aumentare le dimensioni, la potenza del motore, di accelerare. Però intanto mi devo chiedere da come inizio e soprattutto quali sono i miei limiti? Non è che posso decidere quanto voglio. E come deve scalare? Come posso scalare l'applicazione? Devo aggiungere macchine? Devo aumentare le istanze? Devo aumentare la potenza? Queste sono tutte domande che mi devo fare. Se arrivo al serverless, diciamo l'idea del server, la promessa del serverless è che io ho una sola domanda. Come progetto la mia applicazione? Penso, il concetto è questo, vado a ragionare sulla parte di business della mia applicazione. Cioè cosa fa? Qual è l'input e qual è l'output? Poi il dove gira è un di cui? Vedremo, non è un di cui, ha dei vincoli chiaramente, avrà delle caratteristiche, ma non mi interessa. Il cloud farà in modo che la mia applicazione girerà, e girerà sempre in un certo modo, a prescindere dal carico. Quindi tutte le domande di prima, quando lavoro sul mondo serverless, se le tecnologie serverless sono tante, non ci sono. Se facciamo un raffronto con il mondo reale, e prendiamo per esempio il mondo del transportation, quindi della mobilità, allora l'on-prem è mi compro la macchina. E quindi una volta che me la sono comprata, dopo tre anni me la do qua, perché è una macchina, resta lì, la devo gestire, la devo manutenere, la devo pagare l'assicurazione, devo, qualsiasi minima problematica è compito mio. Quindi lasciamo stare il comprare la macchina. Lo IAS è, prendo una macchina in leasing. Ancora una volta la guido io, la devo portare io a fare manutenzione, però la manutenzione probabilmente è pagata da qualcun altro, volendo se mi si rompe me ne danno un'altra in sostituzione, quindi lo IAS è questo. Ma ancora devo fare tanto. Il pass è affitto una macchina per quello che mi serve, quindi devo andare da Roma a Milano, prendo una macchina in affitto, la pago, e la pago per il tragetto Roma a Milano, quelle ore di tragetto, e a quel punto la restituisco. Ma ancora guido io, ancora qualcosa devo fare. Il serverless è, chiamo Uber, mi vengono, o chiamo il taxi, vengono a prendermi, mi portano, quindi il costo, non devo neanche io andare a prendere la macchina, girare la chiave, guidare, ma c'è qualcuno che mi dà una mano in questo, ok? Quindi questo è un po' il, diciamo, il parallelo nel mondo transportation dell'equivalente tra IAS, PAS e serverless, che sono tre tecnologie, tre modalità di approcciare le applicazioni sul mondo cloud. Ok, il serverless in realtà, e questo vale, queste osservazioni valgono a prescindere dal cloud, nel senso che, che si stia parlando di Azure, o si stia parlando di AWS, o si stia parlando di Google Cloud, è esattamente lo stesso concetto, perché i concetti di PAS, IAS e serverless sono gli stessi. Allora, il serverless in realtà, quindi ha tre capisaldi importanti. Il primo, l'astrazione del server. Ovviamente il mio codice girerà su un server, evidentemente, ma a me interessa il giusto. Cioè, interessa semplicemente, per il fatto che dirò che io voglio, che sto usando un linguaggio che gira su Linux, e magari voglio che l'hosting sia Linux, ma, e qual è la, la di, la distribuzione, qual è la potenza di calcolo, a me non interessa, a me basta che qualcuno, il mio codice lo faccia girare. un importante caposaldo del serverless, è che il serverless è una tecnologia, quindi un'architettura, più diciamo, che una serie di tecnologie, ma è un'architettura, che è perfetta, quando noi abbiamo una scalabilità di tipo event driven. Cioè, che significa? Significa che il mio codice deve rispondere a qualche accadimento, che succede nel mondo, tra virgolette, cioè, in una sorgente dati, uno storage, piuttosto che, in un database, succede qualcosa, io devo fare, devo prendere in carico questo accadimento, questo evento, fare qualcosa, di interagire con dei sistemi esterni, ok? Quindi è importante questo, perché se la vostra architettura, non è event driven, già far centrare il serverless, è moda, e noi non facciamo moda, ok? Quindi far centrare per forza il serverless, perché va di moda, e non va bene. L'informatica è una scienza ingegneristica, quindi prendo delle decisioni, perché quelle decisioni mi risolvono dei problemi, non perché fa moda, ok? Quella è un'altra tipologia di approccio. Terzo caposaldo, ed è importante anche questo, è il pay per use. Se il mio codice non parte mai, perché nessuno chiama la mia piattaforma, io non caccio una lira, letteralmente non caccio una lira. E non è così, per l'on premio sicuramente, in cui io devo pagare per avere i server, anche se nessuno li usa, e non è così neanche per IaaS e per PaaS, perché comunque è vero che il cloud mi fa spendere per quello che consumo, ma in un approccio IaaS, in un approccio PaaS, le macchine virtuali sono attive, devono essere attive per poter rispondere, e quindi io sto pagando anche se nessuno le usa, e la piattaforma è comunque in ascolto, e quindi nessuno la usa, ma io continuo a pagare. Nel server, se qualcuno chiama una volta il mio codice, io pago per un'esecuzione, se viene chiamato un miliardo di volte, io pago per un miliardo di esecuzioni. E lì sta nel mio business plan, il fatto che se mi vengo chiamato un miliardo di volte, il costo di quel miliardo, il vantaggio che ho, il guadagno che ho da quel miliardo, sia tale che io ci pago almeno il miliardo di esecuzioni, altrimenti non è una questione di architettura, è altro, quindi non potete scegliere qualsiasi architettura, andate falliti uguali. Quindi questi sono importanti, e vanno tenuti bene a mente, questi sono dei prerequisiti o delle assunzioni che sono importanti e che di solito quando scegliete un'architettura vanno sempre messi in conto. Quali sono i benefit? Mi concentro sulla risoluzione dei problemi, l'aspetto tecnologico è secondario. In realtà poi non lo è perché sceglierò un linguaggio, andrò su una tipologia di provider, però in realtà mi focalizzo su come vado a risolvere il problema. Poiché non ho tutto il contorno da tenere d'occhio, il time to market, cioè dal momento in cui comincio al momento in cui ho un artefatto pronto da provare sul campo, è molto più breve, perché vedremo che scrivo una Azure Function su quattro righe di codice ed è pronta all'uso. Nell'altro caso devo mettere in piedi le macchine virtuali, configurarle e metterci dentro il framework, tutto quanto devo collegarle nella virtual network e poi sono pronto. Quindi probabilmente a tempo zero il serverless ha un time to market più breve che non nelle altre architetture. E poi è semplice, o meglio, dovrebbe essere pensato per rimanere semplice, perché vedremo che una delle caratteristiche delle Function, per esempio, è che devono essere molto piccole, sono dei pezzettini di codice, degli snippet molto piccoli di codice. E vabbè, ma il mio problema è complesso. Il tuo problema complesso sarà fatto da tanti snippettini di codice molto piccoli che interagiscono tra loro, ok? Quindi questa semplicità nella complessità fa sì peraltro che ogni piccolo modulino sia molto testabile. E se è testabile, probabilmente io ho dei problemi, me ne accorgo prima di andare in produzione. Nel mondo Azure, quali sono, adesso io lavoro in Microsoft, quindi vado nel mondo Azure. Nel mondo Azure, quali sono le tecnologie serverless che ho a disposizione? Beh, quella di cui parliamo oggi, le Function. Un'altra tecnologia che si chiama Logic App, che mi consente di disegnare dei workflow per orchestrare dati e processi. Quindi, mi serve di reagire a un evento e che ne so, mandare una mail e poi scrivere un dato, mandare una mail, aspettare magari la risposta e scrivere un dato da qualche parte, beh, sicuramente sono meglio le Logic App che non le Function, anche se le Function hanno un modo diverso per essere scritte, un'estensione che fa sì che possiate scrivere dei workflow. E poi Event Grid. Event Grid mi consente di avere un routing di eventi, succede qualcosa in uno storage, se nel nome dello storage c'è qualcosa, lo mandi verso un website, se nel nome dello storage c'è altro, lo mandi verso una Function. Quindi mi permette di fare routing degli eventi ed è perfetto per tutte quelle architetture che devono reagire ad eventi, magari di terze parti o magari eventi della piattaforma cloud. Tutte queste hanno una serie di funzionalità a corredo che vanno dall'accesso ai database, all'accesso allo storage, la sicurezza, possono essere usate, vedremo uno degli scenari, dell'IoT, oppure la parte di Analytics o di Intelligenza Artificiale. A corredo di questo, c'è tutta una parte relativa allo sviluppo. Tutte queste tecnologie, in particolare le Function, sono così, hanno tutta la parte di supporto per l'IDE, quindi per lo sviluppo attraverso un IDE, quindi Visual Studio Code, Visual Studio Jetbrain, come si chiama, Rider, piuttosto che Eclipse, ok? La possibilità, in realtà non tutte, la Logic App è parziale, ma le Function hanno la possibilità di essere sviluppate sulla tua macchina, senza avere una connessione internet e senza avere, in realtà con qualche limitazione, poi rivedremo, ma senza avere una sottoscrizione Azure. E poi la possibilità di avere monitoring, il monitoring è importante, quando voi pensate a un'applicazione per il cloud, quella sta in un mondo che non è tangibile, non ci potete metterle mai, non potete andare sul server, e quindi dovete sfruttare la parte di monitoraggio per capire cosa c'è che sta andando bene, ma soprattutto cosa c'è che sta andando male, ok? Quindi è importante. Ovviamente le tecnologie da sole non bastano, ci vogliono le interazioni con gli altri servizi, quelli sotto, ma ci vogliono anche gli strumenti per svilupparli, per controllarli e per fare debugging banalmente, ok? Perfetto. E questo ce lo siamo smazzati. Adesso entriamo nel vivo delle function. Prima però bevo, chiaramente ci sono domande, avete domande, interrompetemi, è un meetup, quindi non stiamo alla lezione, alla lezione magna dell'università, quindi... Vai Max, qualora scrivessero sulla chat, magari ti interrompo io. Vai, vai, ok, sì, 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 facciamo la interattiva anche se siamo in virtual. Ok. Il simbolino è quello che vedete in basso, è quello delle function. Allora, le function sono anche chiamate FaaS, function as a service, ma è fondamentalmente un modello di sviluppo, quindi c'è del codice, ok, che ha dei trigger e dei binding di cui vedremo il significato, che ci consentono di reagire a degli eventi e di integrarci con dei sistemi esterni, ok? Poi a tutta una parte, vi dicevo, di sviluppo interessante, lo vedremo all'interno di Visual Studio, noi potremo scrivere il codice, mettere un breakpoint, far partire la funzione ed interagire con questa funzione capendo cosa sta succedendo e cosa non sta succedendo. Quindi è importante anche questo. E poi la flessibilità, perché posso, e lo vedremo tra un po', prendere la mia function, deployarla in locale, deployarla sul cloud, farla girare in un container, metterla su una Raspberry e farla girare sul campo, ok? Perché, perché, come funziona una function? La function ha un runtime, un signore, che è un runtime open source, un signore che è lì, che tiene dentro di sé le tue funzioni e che permette a, i signori che faranno, svegliare la tua funzione a seguito dell'evento, vi ricordo che è event-driven, quindi a seguito dell'evento la funzione si sveglierà, questi signori che fanno svegliare la funzione si chiamano trigger, quindi il runtime porterà dentro le vostre funzioni, terrà svegli trigger e farà sì che quelle funzioni possano interagire con l'esterno. Ma quel runtime è un pezzo di codice scritto in Dothread Core che gira su Linux, che gira su Windows, fatto sta che il runtime che usate da Visual Studio per fare debug è lo stesso che gira sul cloud per ostare le funzioni, ok? Quindi questo fatto fa sì che sia abbastanza flessibile. Quindi, quali sono gli attori di questo spettacolo? Allora, i trigger. Il trigger è un componente della function che fa sì che la function venga triggerata, venga svegliata, venga eseguita a seguito di un evento. Per esempio, un messaggio viene messo in una coda, devo far partire la mia funzione, prendere quel messaggio e farci qualcosa. Oppure, voglio una chiamata HTTP, GET, che faccia qualcosa, mi porti dei dati, magari una query string o una post che porti un payload e la mia funzione deve reagire a quel trigger, ok? Ce ne sono una ventina, ok? Non sono tanti, non sono molti, sono anzi pochi rispetto alla pletora di servizi nel mondo, però l'SDK, il runtime delle function è fatto in modo che voi possiate creare i vostri trigger. Non è facilissimo, o meglio, ci sono una serie di classi da utilizzare per creare i propri trigger, una volta creati chiaramente sono riutilizzabili, però sono assolutamente customizzabili, cioè si possono creare i propri trigger. All'interno del codice c'è la possibilità di agganciarsi ai sistemi esterni utilizzando dei binding. Ancora una volta il binding, di binding ce ne sono una ventina, immaginate di voler scrivere un file in uno storage oppure di scrivere in una banca dati Cosmos DB oppure di chiamare, che ne so, di mandare una mail o di mandare un SMS, ok? Questa connessione dalla vostra funzione verso l'esterno si chiama binding. Ce ne sono una ventina e ancora potete creare i vostri, ok? Qual è il conto? Perché sono importanti questi due? Perché il fatto di esistere un runtime che fa girare le vostre function, vedrete, fa sì che per chi scrive la function come è fatto il trigger e come è fatto il binding è un di cui chi se ne frega nel senso, scusate il termine tecnico, ma il binding per scrivere in una coda sarà un oggetto che mi permetterà di fare ad di qualcosa, punto. Poi come lui fa non è un mio problema, è un problema della piattaforma, quindi mi sta astraendo, più mi astraggo e meno rimango nel concreto, meno cose devo sapere, più sono, diciamo, performante nello scrivere le funzioni. Esiste la possibilità di avere quando sono sul web un'interfaccia con dei proxy che mi permettono di far cambiare la modalità con cui interagisco con le mie function, soprattutto per le function ovviamente svegliate da una chiamata HTTP, un local debugging e poi lo vediamo e non l'ho ancora citato, ma una function può essere scritta in diversi linguaggi. Al momento sono supportati C Sharp, Node.js, Java, Python, PowerShell e Bash. Ok? In realtà, per come è pensato l'SDK, anche il linguaggio può essere esteso, cioè il provider che vi permette di scrivere le vostre function nel linguaggio vostro preferito può essere realizzato. Quello è particolarmente complesso, però essendo tutto open source la community sta lavorando per creare nuovi provider di linguaggio. Ok? Quindi al momento ce ne sono un po', ovviamente non sono tutti i linguaggi disponibili nel mondo, nel momento in cui qualcuno vorrà creare provider per Go sarà disponibile anche il linguaggio Go per le function. Quando andate sul cloud, le function si integrano completamente nel mondo Azure e questo significa che se avete un meccanismo di DevOps, quindi una continuous integration, una continuous deployment, cioè quei meccanismi per cui qualcuno schiaccia un bottone, il vostro codice viene compilato, testato, analizzato, validato, poi viene preso e deployato sul cloud, tutto in automatico, come se fosse Harry Potter, una magia, bene, le function, come tanti servizi cloud, si integrano in questo meccanismo, quindi a tutti gli effetti potrebbe essere messo in piedi un meccanismo di automatismo, si chiamano continuous integration, continuous deployment per fare questo. Infine, quando andate sul cloud, ma anche in locale, lo vedremo, avete tutta una parte di monitoring, quindi sapete esattamente cosa sta succedendo e potete avere banalmente il vostro log, ok? nel cloud si chiama monitoring perché il log non è solo ciò che scrivete nel log, ma anche cosa sta facendo il servizio che porta dentro le vostre function, in generale il vostro servizio. è importante perché proprio a maggior ragione del fatto che non avete un server, la vostra function gira dovunque, gira dovunque dove avete scelto che giri come regione, no? Se scegliete l'Europa, resta in Europa, però gira dovunque, quindi non avete un posto dove andare a cercare il log, quindi vi serve un meccanismo di monitoraggio e di log incentralizzato per capire cosa sta succedendo. Non entreremo nel merito del monitoring e del testing, ve le vedremo solo oggi. Poi se la cosa vi interessa ci sono almeno altri 7-8 meetup da fare su sta roba perché c'è il mondo. Però tenete presente che non è un giochino, non è un giocattolino, nel senso che si può utilizzare quando serve e quando ci sono i requisiti anche a livello enterprise, quindi a livello efficiente. Come funziona? Qualcuno mi sveglia perché succede qualcosa, il runtime mi chiama, il mio codice viene eseguito, i binding entrano i binding escono. Ok? E finito. Finito, nel senso che io ho pagato per quei due secondi, quel secondo e mezzo, quei 30 decimi di secondo in cui la funzione ha girato. Ok? Tutto il resto non conta, io non sto facendo nulla, non vedo perché devo pagare. Ok? Quindi è importante. Alcuni scenari di deployment. Vado sul cloud, vado su Azure, lo faccio girare in una modalità che si chiama consumption ed è esattamente quella modalità che vi spiego. Nessuno mi chiamano un pago, mi chiamano un tot di volte e pago per il tot di volte. In realtà quando scegliete quella modalità lì avete un milione di chiamate al mese gratuite, dopodiché cominciate a pagare e non sono pochissime un milione. Poi vi dico alcuni scenari in cui viene tranquillamente coperto senza cacciare una lira. Però se voglio utilizzarle nella modalità pass posso ancora farlo, quindi ho due modalità pass che posso usare perché voglio fare quello perché mi serve un ambiente dedicato in un certo senso sul cloud allora il consumption non va bene perché quelle girano dappertutto anche se in maniera sicura ma non voglio e allora posso segregarle in un ambiente isolato e ancora posso farle girare. Posso farle girare on-prem perché vi ho detto il runtime ce l'ho quindi lo posso far girare sul mio server sulla versione on-prem di Azure e posso farlo girare su una raspberry quindi lo posso mettere su un device piccolo sul campo e magari far girare lì delle function che poi vanno a chiamare la mia infrastruttura sul cloud. Quindi attenzione perché le opzioni di hosting sono tante. Andiamo a vedere com'è fatta. Abbiamo cinque minuti abbondanti. No, ci perdiamo tutto il tempo che ci serve. Allora scusa Max ho una domanda io mi è chiaro quando sono in cloud la modalità con cui io pago diciamo l'utilizzo che faccio delle function nel senso ho dieci richieste dello stesso tipo pago dieci volte la singola richiesta qualora io avessi il runtime installato sul mio edge per esempio Raspberry come dicevi tu è totalmente gratuito quindi come se usassi una libreria e basta ok va bene se si devi usare il runtime ora te lo faccio vedere ad essere preciso quello che tu adesso te lo faccio vedere subito guarda ti faccio vedere quando creerò il progetto e la lancio ti faccio vedere che parte il runtime come tu avresti fatto se lo facessi girare sul Raspberry anzi in realtà quando installate il modulo per le function dovrebbe venire giù con i nuovi visual studio in automatico mi apro la PowerShell vi mette vi installa un function tool funk quando lanciate questo vedete intanto il simbolino questo è un tool che non solo si chiama Azure Function Core Tools non solo all'interno ha il runtime quindi è questo che porta dentro le vostre funzioni ok ovviamente può essere fatto girare in maniera silente evidentemente ma ha tutta una serie e quindi start fa quello ma ha tutta una serie di comandi per creare anche le funzioni quindi non siete obbligati a usare visual studio visual studio code se vi piace frustarvi col cilicio usate questo e poi col notepad scrivete il codice ok tanto il vostro codice è piccolo ok certo è evidente che è meglio usare un ambiente di sviluppo però in linea teorica vedete init vi fa creare un contenitore di funzioni new vi fa creare delle funzioni quindi avete tutta una serie di comandi per poi dopo magari farla partire la funzione e metterla in esecuzione questa roba ovviamente gira anche in modalità filente ok ed è quello che poi vedremo usa l'ambiente di sviluppo per far partire la funzione e metterci in debug ok vi dicevo in realtà sul cloud quello che pagate non è l'esecuzione della funzione è un pelino più complessa nel senso che è una funzione intanto capite per come è fatta ed è opportuno che sia così non può durare in eterno perché perché per come è pensata voi pagate la durata della funzione per la sua occupazione di memoria quando la funzione è molto rapida e occupa poca memoria come dovrebbe essere voi un milione di chiamate è il numero massimo che avete gratuito però in realtà quello che fa Azure Azure è quando fate un plan fate come vi pare quello che fa in Azure è calcolare la durata per l'occupazione della memoria e vi tariffa quella quindi in realtà sarebbero un milione di chiamate o 400.000 gigabyte per secondo ok quella che è arrivata prima ok ma comunque per definizione di serverless ed è anche giusto che sia così altrimenti non scalerebbe una funzione non può durare quanto vi pare il massimo sull'approccio a consumption è 10 minuti dopodiché viene ammazzata non ci sono santi questo video stringe a ragionare in maniera efficiente primo e ragionare in una sorta di microservizi che durino poco facciano poca roba in maniera puntuale ok è un vantaggio questo non è uno svantaggio perché quella roba è molto testabile scala più dura poco una cosa e più ne posso avere tante in esecuzione contemporanea perché non sto bloccando le risorse per molto tempo ok va bene ho parlato crea un progetto nuovo vedete che esiste un progetto azure function lo faccio c sharp ma va bene uno vale l'altro mi metto nella buttami così poi la cancello e la chiamo meetup function ok meetup functions ok benissimo create la prima cosa che mi viene chiesta è vabbè intanto il framework che voglio usare vabbè uso il tre ma uno vale l'altro in realtà rimanete tra due e tre l'uno è vecchio quindi non ha certe funzionalità che hanno gli altri ma in questo momento è un dettaglio poi vi dice va bene allora tu puoi creare la prima function mi devi dire qual è il trigger che ti sveglierà e quindi vedere che ce ne sono un po' blob cosmos event grid event hub l'http l'iot hub quindi già capite che se devo attaccare la logica ai dati ricevuti dall'iot da un device sul campo questo è un un buon modo service bus service bus la coda il timer quindi ogni tot me la fai partire immaginate un uno scenario in cui io tutte le notti devo fare qualcosa magari pulire una tabella di un database che ovviamente non richieda una pulizia che non richieda 20 ore ma che richieda magari un minuto io potrei creare una function che gira tutte le notti a mezzanotte ma a quel punto anche ogni ogni ora volendo e che faccia pulizia della tabella non ci arrivate a un milione al mese quindi è gratis ok non ci arriverete mai se vi fate i conti se la fate girare ogni ora non fate un milione di ore in un mese quindi ci siete tutti quanti fanno le demo con http trigger io siccome mi piace rischiare voglio che non funzioni la demo la faccio con la coda quindi vi farò vedere che la mia funzione parte si mette in ascolto su una coda e quando io scrivo qualcosa in quella coda le punte parte ovviamente potrò analizzare quello che è successo come la chiamo la coda beh vabbè tanto per avere fantasia la chiamo input q poi vediamo la configurazione dove finisce poiché sto lavorando locale uso un emulatore dello storage la coda sta su uno storage lo storage è un servizio web scusate è un servizio azure ma ho un emulatore che gira localmente e che mi simula lo storage in locale quindi io in teoria quello lo posso usare anche su un server ok perché espone degli end point rest come il servizio sul cloud e lo sfrutto per non dovermi non dover avere una connessione verso il cloud stesso lo faccio ravanare e lui quello che farà è scrivermi un pezzo di codice che è la mia funzione ok ci mette il suo tempo a quest'ora poi è anche stanco da una mattinata di lavoro quindi da una giornata di lavoro dovrebbe aver fatto ce la può fare perfetto allora andiamo a vedere com'è fatta così ci rendiamo conto allora è un metodo run peraltro pure statico volendo si potrebbe non rendere statico e anche renderlo asincrono aspettate che adesso sta risolvendo gli squiggle quindi tra un po' è tutto a posto intanto cominciamo ad analizzarla il fatto che si chiami run pippo, pluto, pippo, baudo, paperino non è un problema perché il nome effettivo della funzione è dato da questo attributo gli attributi sono dei metadati che voi aggiungete a un metodo a una classe a un argomento e che possono essere utilizzati in sede di runtime in particolare quello che fa il runtime delle function è sfruttare questo attributo per capire come si chiama quella function e mostrarvela tra le function disponibili quindi la potete chiamare come vi pare ok ovvio che non potete mettere qua dentro un altro metodo che si chiama run perché è un problema di C sharp non delle function ma ok poi qua compare un trigger anche qua vedete che il fatto che è svegliata da un trigger di tipo coda è descritto da un attributo ok questo comporta due cose che a me chi se ne frega come funziona quel trigger a me semplicemente mi interessa che quando qualcuno scrive qualcosa qui dentro intanto fatemi togliere questo che non serve quindi non ci interessa così è più semplice che quando qualcuno scrive qualcosa in una coda che ho che sto tenendo d'occhio nella stringa di connessione che poi vi farò vedere che si chiama input queue io devo partire poi come è fatto no a me non interessa qualcuno l'ha fatto per me bravo non bravo quello che sia ma non è un problema mio ok il fatto di che sia un attributo inoltre fa sì che io quando testo questa funzione cioè implemento uno unit test possa tranquillamente non considerarlo perché quello viene utilizzato dal runtime in runtime durante il runtime quindi nel test io non lo posso posso anche non considerarlo e se guardate come è scritto questo metodo se togliete questo l'attributo questo già accetta la stringa e accetta un'interfaccia quindi più testabile di così non esiste ok molto buono quello che vedete dopo in questo caso la stringa si chiama payload del trigger ed è un oggetto in questo caso una stringa ma dipendentemente dal trigger che state utilizzando è un oggetto che a seguito del risveglio della funzione porterà i dati del trigger in questo caso è una coda quindi il messaggio della coda ma se aveste per esempio una chiamata un trigger di tipo HTTP qui avreste la chiamata web con tutti i dati necessari ancora una volta questo oggetto è un oggetto tranquillamente moccabile in un test quindi sostituibile con quello che voglio io e questo lo rende testabile in più come vedete ho il log quindi in questo caso sta funzione non fa niente parte e scrive un log però a me va bene così in questo momento serve per far capire quindi che cosa faccio mi metto qua con un breakpoint faccio come farei su un normale pezzo di codici lo faccio partire compila crea la DLL necessaria e poi quello che vedrò è che parte quel runtime che avete visto dovrebbe partire eccolo arriva ce la fa parte il runtime si prende il mio codice è quello di prima solo che non vedete l'help perché non parte come help ma parte come hosting si prende il mio codice va a capire come è fatto quali sono le funzioni e lo sa perché c'ha quel function name si va a capire quali trigger gli serve e lo sa perché c'ha quegli attributi dopodiché dice ok tutto pronto sono pronto a questo punto proviamolo quindi io mi prendo un applicativo che si chiama storage explorer che mi fa interagire con le code con lo storage in generale ho una coda input queue quindi quello che faccio aggiungo un messaggio alla coda immaginate una parte della vostra applicazione che scriva un messaggio in una coda per esempio il vostro e-commerce quando deve sottomettere l'ordine alla logistica per esempio non chiamerà direttamente la logistica perché se la logistica ha qualche problema il vostro website è fermo e non va bene io voglio che il website continui a lavorare chi le compra le cose nessuno allora una soluzione è che il website quando deve sottomettere l'ordine mette l'ordine per il cliente lo sto elaborando e lo salva in una coda a quel punto dall'altra parte ci può essere qualcuno per esempio questa funzione che prende l'ordine e lo mette in moto ok se quello dall'altra parte la function o il pezzo dall'altra parte è giù perché è rotto perché qualcuno l'ha spaccato se è rotto un server quello che sia il sito web continua a far acquistare la roba chiaramente ci metterà di più a evadere gli ordini dovremmo sbrigarci a mettere a posto però non rimane fermo quindi io non sto perdendo clienti quindi sto realizzando la mia applicazione in maniera quella che si chiama in maniera resiliente cioè la mia applicazione continua a funzionare anche se gli manca un pezzo ok gli manca un braccio ma continua a scrivere con l'altro ok quindi provo a scrivere il messaggio primo messaggio in coda quando lo salvo nella coda dovrei vedere ops la mia funzione è stata svegliata ok attenzione attenzione non sono pensate per essere performanti se vi servono le performance ci sono altre strade sono pensate per essere reliable cioè significa che state sicuri che qualcuno una vostra funzione quel messaggio lo gestirà punto non che lo gestirà in un millesimo di secondo non sta scritto in nessuna parte sta scritto che prima o poi in un tempo ragionevole quel messaggio verrà gestito quindi se il requisito è deve essere straperformante non va bene se il requisito è voglio che i miei ordini siano tutti gestiti che ci metta un secondo mezzo secondo o un decimo di secondo non è un problema e questa potrebbe essere la strada se vado qua vedete primo messaggio in coda quindi ho ottenuto il mio messaggio e poi sfrutto il log in questo caso scrivo e dovrei eccolo qua vederlo qui vediamo un po' se riesco oh bravo massimo vedi che ci sei hai imparato eh sì bravo non sei scarso qui c'è il log qtrigger function processed primo messaggio in coda ma così non sto usando le function semplicemente mi sono fatto svegliare ma non ci ho fatto niente adesso facciamo che il messaggio arriva e io prendo e lo copio in un'altra coda ok non fa niente uguale però almeno uso un binding come descrivo il binding vado qua e gli dico guarda cara funzione oltre che il trigger di tipo coda usa un binding di tipo coda e voglio che tu lo vada a scrivere vada a gestire l'altra coda di out scusate output q non riesco a parlare scrivere insieme ancora ho un processore vecchio quindi non riesco quindi ho un trigger di tipo coda e un binding di tipo coda poi vi faccio vedere uno scenario semireale in cui ho una gestione dell'ordine e i trigger e i binding sono diversi ok e qua che cosa voglio fare voglio dire guarda siccome sto trattando messaggi fai in modo che il payload del binding se quello prima era il payload del trigger questo è il payload del binding che è una stringa perché sto trattando code sia fatto in modo che io ci posso scrivere dentro e tu ci pensi quando esce la quando uscirò dalla funzione a scrivere ok non è un problema mio sei tu il binding io faccio l'altro lavoro ok quindi da qua vediamo un po' vado qui poi capiamo perché mi da errore adesso c'è vado qui e faccio uguale cioè semplicemente copio uno dentro l'altro ok non fa niente questa funzione è evidente che così non serve a niente però banalmente mi prende un messaggio vengo svegliato per un messaggio e lo copio da un'altra parte qui potrebbe essere un'elaborazione potrei fare l'inversione del messaggio che ne so quello che vi pare lo faccio faccio semplicemente la copia non è un problema lo rimando in esecuzione adesso provo a scrivere un messaggio quello che mi aspetta è che questa parte che venga completata con successo e che poi se apro la coda l'altra coda di output trovo il messaggio nell'altra coda ok vediamo se non ho fatto danni che a quest'ora è probabile è partita adesso ti rimetto qua ah intanto vedete che nella coda dove ho inserito il messaggio non c'è più grazie è stato è stato analizzato dalla funzione quindi ci siamo quindi vado qua e faccio secondo messaggio in coda ok il messaggio è chiaro che è una stringa ma se volete dentro ci mettete un json che serializza il vostro oggetto quindi è evidente che sia una stringa tra le altre cose il binding della coda e del trigger della coda è fatto in modo che se voi usate un oggetto serializzabile e il messaggio ha la forma della serializzazione lui è in grado di idratare l'oggetto quindi vi dà l'oggetto quindi è ancora più astratto ma insomma è un di cui scrivo no uno solo vabbè è partito un doppio clic comunque vedete che è stato è stata invocata posso fare tranquillamente breakpoint step by step quindi qui in realtà potrei chiamare i miei pezzi di codice potrei fare quello che voglio tra le altre cose questo si basa su .NET Core ASP.NET Core quindi potete gestire anche tutta la parte di dependency injection i log i provider la configurazione come fate in un sito web solo che questa è function vado avanti dovrebbe aver finito e se vado da quest'altra parte non qua allora qua non trovo più il messaggio e va bene da quest'altra parte voilà secondo messaggio in coda quindi mi sono sbattuto dovendo imparare le function per fare una copia del messaggio però è tanta roba già ok adesso andiamo a vedere qualche scenario vero e poi un esempio vero di function che interagiscono la gestione di un ordine che è un po' più complesso domande su questo è complicato è ni cioè all'inizio può sembrare il consiglio è dategli un'occhiata poi non dovete diventare esperti però è un tool in più che avete a disposizione poi vi lascio dei riferimenti nelle slide su anche riferimenti al progetto che vedrete di gestione dell'ordine ve lo lascio il mio github quindi non c'è non c'è problema da questo punto di vista alcuni scenari poi di questi ne vedremo alcuni back end delle web ve l'ho già detto l'ordine per esempio gestione dell'ordine ed è uno di quelli che vedremo back end di un'applicazione mobile un'applicazione mobile fa qualcosa chiamano API queste API potrebbe essere una function e magari fa scattare un'altra function per mandare delle notifiche ad esempio oppure file processing qualcuno mette un file da qualche parte io lo prendo lo analizzo magari un'immagine creo dei thumbnail oppure analizzo l'immagine per capire se ci sono dentro degli oggetti o cose del genere perché dovrei usare le function e non una normale normale batch perché il batch è più complicato e perché le function se mi mandano meno di un milione di immagini al mese non le pago che non è poco onestamente ok oppure scheduled task quelli che vi ho detto ogni tot parte un qualcosa che cancella dei dati in una tabella ok quindi è anche questo vediamone alcuni back end il sito web fa una richiesta l'ordine di mettere in esecuzione di inviare un ordine a qualcuno quello finisce in una coda o in una coda di un service bus è solo un po' più complessa la coda del service bus parte una funzione che scrive da qualche parte magari analizza i dati scrive da qualche parte o scrive da altre parti o manda una mail che ne so qualcosa del genere bot volete fare un bot banalmente volete fare una skill Alexa le skill Alexa come funzionano non so se conoscete Alexa quando chiedete ad Alexa qualcosa Alexa cerca di riconoscere la parola iniziale e se la riconosce e sa che è una vostra skill vi chiama fa una chiamata post HTTPS con un pilode che vi dice che cavolo ha capito beh basterebbe fare una function che risponde ad un HTTP S di tipo post e nella function esiste peraltro anche un package che vi consente di capire che cosa vuole Alexa e dentro la function rispondere ad Alexa ok non metto in piedi tutta un'architettura scrivo una function magari vediamo se ci avanza tempo me la faccio anche vedere perché alcune ce le ho già fatte ok quindi in realtà la parte bot cioè io chiedo qualcosa e qualcuno risponde il quel qualcuno risponde potrebbe essere fatto da una function perché perché se ho un milione di domande al mese non pago se ne ho due milioni ne pago un milione spero che quel milione mi faccia guadagnare tanto da ok e poi comunque ogni esecuzione non è non è così costosa real time file processing qualcuno salva un file da qualche parte io magari lo prendo e con chiamate a servizi tipo OCR magari cerco di capire cosa c'è dentro immaginate un un documento pdf di una un modulo compilato esiste un servizio cognitivo che vi permette di dato una form estrarre chiave valore chiave valore di ciò che c'è scritto ok quindi un OCR pensato per le form quindi la function riceve il file chiama a suo servizio prende i risultati e li scrive in un in un in un in un in un in un SQL in realtà qui c'è scritto SQL SQL non ha un'interazione un binding nativo per le function però uno se lo può scrivere però capite che state state facendo processo di file con un qualcosa che ha forse 5 righe di codice 10 ok quindi non troppo costoso schedule and task qualcosa in una banca dati parte ogni tot 15 minuti e magari rimette a posto i dati li pulisce oppure li sposta da qualche altra parte o fa qualche meccanismo del genere no per fare questo in un mondo cloud devo mettere in piedi un meccanismo che viene eseguito ogni tanto e quello ogni tanto potrebbe essere un container che viene lanciato potrebbe essere un web job ma non è facile non è banale potrebbe essere un un batch ancora più complesso questa in realtà saranno anche qui 10 righe di codice peraltro probabilmente questa manco la pago perché 15 minuti al giorno per un mese non fa un milione ok ci siete perfetto perché alla fine della fiera prima di vedere un esempio concreto le funzioni sono da un certo punto di vista uniche allora intanto perché se ci provate a smanettare diventano concettualmente semplici poi dipendentemente dallo scenario potrebbero essere complesse ma concettualmente sono semplici qualcuno mi sveglia mi dà dei dati e io con quei dati scrivo del codice per chiamare altri non è non c'è in mezzo cose particolari la scienza dei razzi è banale ci riesco anch'io a farle quindi devono essere semplici poi beh sono flessibili quindi io le provo localmente magari le faccio girare su sulla mia macchina e poi prendo tasto destro e le pubblico sul cloud e funzionano mediamente hanno una serie di funzionalità dallo sviluppo fino alla possibilità di estendere i binding di estendere i trigger quindi in realtà il fatto che avete venti una ventina di trigger e binding non è così limitativo perché volendo ve li scrivete la maggior parte dei servizi più usati ci sono servizi particolari non ci sono ma c'è un modo per estenderle il problema è che una function non l'ho ancora detto ma si deduce in un certo senso l'ho anche detto intanto deve durare poco deve fare una sola cosa e purtroppo per come è pensata non può avere uno stato dove se lo mette lo stato cioè quella viene lanciata e gira da una parte poi viene rilanciata e gira da un'altra è nomade non può avere uno stato quindi se voi avete un approccio e dovete fare un workflow per esempio il workflow è tipicamente un qualcosa con lo stato quantomeno deve sapere dove era arrivato e poi una function non può interagire direttamente con un'altra function quindi questo sembra una limitazione ma proprio perché i trigger e i binding sono estendibili esiste la possibilità di usare un'estensione delle function che si chiama durable function non entriamo nel merito ma questa consente di creare oggetti con stato consente di creare degli attori con stato e dei workflow basati sulle function quindi la orchestrazione di più componenti molto semplici le singole function a creare un workflow complesso sempre da codice quindi dovete sempre scrivere il codice però c'è questa possibilità e poi i tool sono quelli che avete sempre usato per sviluppare o meglio spero abbiate sempre usato quindi ambienti di sviluppo semplicemente che si appoggiano su runtime peraltro open source quindi chi non c'ha niente da fare la sera si può andare su github e vedere come è fatto penso ci sia di meglio da fare però volendo se avete questo vediamo un esempio pratico gli ultimi dieci minuti scusa Max ancora una domanda sempre vai 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 visto che si stava parlando un po' anche diciamo di quelli che sono i vantaggi delle function secondo te questo approccio aiuta ad migliorare l'organizzazione dell'architettura oppure il fatto che diciamo siano un po' stringenti a volte vincolante allora come al solito quando ti sposti da un mondo monolitico l'on prem perché l'on prem c'hai tutto lì vicino quindi tendi a raggruppare perché? perché tanto non hai nessun vantaggio a diciamo ad estrapolare ad estendere a fare micro componenti non hai nessun vantaggio quando ti sposti sul cloud invece l'ideale è che la tua architettura sia composta da tanti componenti e magari una parte della tua architettura sia server poi un'altra parte magari è fatta standard normale canonica in maniera canonica quindi potresti avere una parte a microservizio con un front end web classico e magari delle function di contorno quindi non è detto che tu debba usare solo function anzi tendenzialmente più le function diventano tante più devi stare devi organizzarle bene altrimenti diventano tanti pezzi di codice quindi l'ideale è usarle dove servono perché in alcuni casi ti aiutano aiutano molto ma magari approcciare in maniera critica nel senso che la mia architettura è composta da tanti componenti e uno di questi componenti è il serverless e uno di quei componenti serverless è le function ok? come al solito avete la cassetta degli attrezzi e voi che dovete piantare un chiodo usate il martello se dovete girare una vita non lo spero non usate il martello io ci ho provato e non ci si riesce a piantare una vita col martello è complicato quindi mentre in casa usate più quando state un prem usate sempre il martello quando andate sul cloud sta cassetta va usata quindi bisogna conoscerli i tool la difficoltà è solo quella quindi non è detto che tu debba fare tutta l'architettura con le function anzi non è una buona buon approccio ok? ok grazie allora immaginiamo uno scenario semplice ho un endpoint REST un web service REST che viene usato dai miei clienti per sottoporre un ordine quest'ordine arriva nel mio web server che è scatola nera quest'ordine viene analizzato cioè viene capito se è valido ok? se è valido viene scritto in una banca dati in una tabella poi viene creata la fattura e viene inviata la mail ok? il processo di arriva l'ordine lo verifico lo scrivo dentro alla tabella creo la fattura e mando la mail potrebbe durare tanto e quel signore di là a parte che questo è un webbook quindi per definizione un webbook non può durare tanto e quello dall'altra parte potrebbe non voler accettare lui vuole che l'ordine sia sottoposto poi ci può impiegare quello che ci vuole impiegare finché non gli arriva la mail con la fattura ok? se lo faccio in maniera canonica qui dentro mi devo inventare qualcosa per rispondere subito e poi gestire sto meccanismo in più vorrei che tutte le notti girasse qualcosa che prendesse tutti gli ordini della giornata e creasse un report perché voglio un report tutte le notti come lo farei questo con le function? capite che non so non so stupido ho pensato ad un esempio in modo che sia facile realizzare con le function lo realizzerei così quattro funzioni la prima ha un trigger HTTP quindi riceve la chiamata quello che fa la scrive la verifica cioè fa semplicemente una piccola verifica la scrive in una tabella e la mette in una coda quindi fa la validazione la coda fa partire e poi risponde quindi quello perfetto l'ho ricevuto l'ordine buono tranquillo a posto ok? quello può comprare qualcos'altro nel frattempo poi il fatto di averla messa in una coda fa svegliare un'altra funzione che crea la fattura e la scriva in uno storage il fatto di aver scritto un file in uno storage fa svegliare un'altra funzione la terza che manda la mail poi la notte gira la notte quindi è una una function temporizzata gira qualcosa che fa il report quindi può essere la notte può essere ogni 10 minuti ok? vediamo come si presenta questo è già un po' più complesso avete capito che insomma non è non è non è come quella di prima banale allora questo lo trovate sul github che vi ho messo quindi avete sia questo approccio che avete visto come funzioni sia lo stesso approccio sviluppato con le durable function di cui vi ho parlato che non vediamo oggi poi se vi interessa possiamo fare un meetup solo su quello allora prima funzione arriva l'ordine la prima funzione arriva l'ordine è si chiama order receiver perché riceve l'ordine come se vorrà chiamare poi accetta ha un trigger di tipo http quindi viene svegliata da una chiamata http di tipo post e come vedete quello che ottengo è la chiamata la request quindi tutti i dati di chi mi ha chiamato cioè la chiamata l'http poi voglio lavorare su una coda ed è uguale a quello che avete visto prima solo che qui definisco qual è nel file di configurazione la stringa di connessione per l'account quindi tutte le impostazioni che mettete nei binding nei trigger possono stare nel file di configurazione il che mi pare ovvio ok però lo diciamo e come vedete qua lavoro su un collettore di ordini quindi qua della coda proprio non c'è traccia questo è un signore che riceve ordini in maniera asincrona e quindi gli posso aggiungere degli ordini poi lui prende e li scrive dentro una coda come li scriverà se realizzati ok perché ho usato un collettore di ordini perché l'idea è che questa funzione potrebbe ricevere più in questo caso ne riceve uno ma immaginate che possa riceverne uno o più di uno quindi quella funzione potrebbe essere più più estesa ma qui potevo mettere tranquillamente il singolo ordine ok uno quindi un binding lo stesso binding può gestire un oggetto o n oggetti dipendentemente da come è realizzato e poi mi serve una tabella questa è una tabella dello storage non è un database vero e proprio ma è un no SQL che lo storage Azure vi fornisce e anche qua scrivo degli oggetti order raw che sono degli oggetti delle classi quindi qua se levate gli attributi questa è non c'è scritto nessuna parte che va su una coda e va su una tabella ok quindi quando scriverò se lo guardate dal punto di vista di chi scrive il codice qua dentro questo che sia una coda o sia una tabella è un di cui ok e infatti che cosa fa si prende il contenuto del body lo deserializza quindi qui andrebbe il controllo io non l'ho messo per semplificare poi lo aggiunge nella coda crea l'ordine da scrivere nella tabella con questa sintassi qua con questo costruttore copia e lo scrive nella tabella finito ovviamente gestisce le eventuali eccezioni ma è finito il fatto che l'ho scritto nella coda anzi visto che ci sono fatemi mettere un breakpoint così non me lo scorto dopo poi ci siamo e abbiamo finito resistete siate stoici il fatto che l'ho scritto nella coda fa partire la generazione della 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 fattura e qui l'ho complicata un po' perché perché ho il q trigger che avete visto prima bene che accetta ordine quindi vedete che prima usavo la stringa qui è voglio che quel messaggio sia effettivamente in ordine se non lo è quel messaggio viene buttato ok la funzione non è in grado di serializzarlo viene buttato ma a me sta bene che sia così perché io voglio trattare gli ordini se qualcun altro ci scrive delle porcherie quelle porcherie devono essere buttate ok poi posso usare dei binder dinamici quindi volendo non mi voglio scrivere il mio binding ho la possibilità di usare un'interfaccia di binding ma qui capite che è meno astratto rispetto a usare un binding esistente che in questo caso va a scrivere su un file la sintassi è brutta a piacere ma cercate di non entrare nel merito della sintassi poi se volete vi scaricate il codice e ci giocate il concetto è voglio un binding che scriva su un file in particolare voglio andare a scrivere in uno storage sto creando la fattura in questo caso la fattura è un file di testo stupido però non è un problema immaginate che potreste generare un pdf con una dll per generare pdf e scrivere il pdf esattamente nello stesso modo quando poi domanda no quando poi scrivo il file ne parte un'altra e queste partono in maniera assolutamente sconnessa tra loro non è un problema a me basta che poi venga completato il ciclo il giro che non fa altro che mandare la mail qua che cosa faccio uso un trigger che si basa sul blob il blob è lo storage dove mettete i file per chi non conosce ma non è un problema e ho uno stream grazie a un file mi serve lo stream perfetto e il file name quindi è in grado anche di passarmi due oggetti volendo poi mi serve la tabella perché mi servono le informazioni dell'ordine in particolare la mail del customer poi il binding verso un servizio che si chiama senderid che serve per mandare le mail come vedete l'ordine non è importante perché qua il logger volontariamente l'ho messo in mezzo ci pensa lui non è un problema non può essere un problema l'ordine io voglio sto dichiarando sto usando un approccio dichiarativo voglio essere svegliato dal blob qualcuno ha scritto un file voglio usare una tabella e voglio mandare una mail ok ci pensi tu è un problema di piattaforma quello che fa viene creato un messaggio e siccome qui il binding è un binding di output quando creo un messaggio imposto questa variabile quando la funzione esce parte la mail ok vediamo come va se va perché non è detto che funzioni a quest'ora aspettate che intanto mi sono scordato di mettere questo allora lo mando in esecuzione quando usate delle function con l'http il runtime quando parte vi dà anche l'uri da utilizzare per chiamarla che può essere utile tanto lui compila ravana è tutto mi ha proposto non so se lo conoscete postman è un tool per poter fare chiamare per poter far chiamare rest http https ho preparato un ordine con un ordine di customer name customer address quel formato che mi serve la data dell'ordine e il price questo può essere complicato piacere non è un problema è un json quindi fate come più bravi di me quindi tranquilli non è questo il problema aspettate perché ho quest'altro aperto che non avevo chiuso c'ha ragione lui c'ha sempre ragione lui c'è niente da fare il brutto è che c'ha sempre ragione lui cioè vabbè vediamo un po' se riparte si davano fastidio con la porta d'ascolto dell'http vediamo se adesso gli piace di più vi ha provato di ottenete duro ci mancano 5 minuti so che l'ora è tarda però stoici vai tranquillo no ma io più tranquillo che così è da stamattina che parlo ormai tra un po' mi sparano per fermarmi allora vedete che vi fa vedere qui vi elenca anzi qui aspettate che aumentiamo un po' perché capisco intanto è partito anche lo schedule qua in alto nel log buono 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 avete tutte funzioni che lui ha riconosciuto ok e in più vi mostra vi mostra ok vi mostra il gli end point che adesso io vado a utilizzare locali come vedete è localhost quindi le posso provare localmente in linea teorica utilizzando un tool che vi apre questa porta locale verso l'esterno ne esiste uno che si chiama ngrok che fa sto lavoro io potrei farlo partire e poi voi chiamare la mia funzione qua dentro ok oppure la potrei ostare dentro un IIS piuttosto che un qualsiasi web server vado qua metto l'indirizzo qui post ok faccio send e mi aspetto che con molta calma viene chiamata la prima order received perfetto scrivo in coda e scrivo in tabella genero la fattura quindi sto scrivendo la fattura la fattura la sta scrivendo non è performante però tra un po' pam parte l'invio della mail e non sto bloccando nulla perché ogni ogni function dura veramente poco se andate a vedere nel log quanto è durata meno di un secondo ciascuna ho finito il giro cosa mi aspetto allora mi aspetto che se prendo il lo storage locale nella tabella degli ordini io devo avere l'ordine voilà e c'è l'ordine e questa l'abbiamo fatta e si riconosce perché l'indirizzo è via le mani dal naso poi mi aspetto che nella nella storage dove ho il file della fattura io abbia la fattura quindi in voices ho la fattura c'è la fattura e se provo ad aprirla dovrei avere quel file di testo è un file senza estensione ma in questo momento chi se ne frega dovrebbe scaricarmela ecco più transfer quindi dovrebbe scaricarla e darmi la possibilità di aprirlo yes dimmi con che potente strumento vi faccio notare che è esattamente la fattura generata si riconosce perché c'è via le mani dal naso l'ho messa opposta e poi mi aspetto che mi sia arrivata una mail apro il mio client di posta aspettate lo apro magari che si veda perché se no è l'utile che lo apro azure invoice è ovviamente l'indirizzo che ho usato io fattura generata il 17 giugno bla 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 con la fattura allegata che è esattamente quel file lì quindi il giro l'ha fatto non è ovviamente la scienza dei missili è molto semplice però capite che con questo meccanismo con tanti mattoncini della lego ci si costruisce anche la la testa rossa quindi mettete tanti mattoncini tra loro e tante function e riuscite a costruire anche scenari complessi poi il vostro sito web sarà fatto sempre nello stesso modo però per esempio gli end point di gestione dell'ordine potrebbe essere fatto così ok quindi alla fine se ci pensate questo è un workflow se usate se andate a vedere l'implementazione fatta con le durable function che è un workflow è più semplice però già così insomma non è male soprattutto ha funzionato il che mi rende particolarmente contento quindi siamo più o meno arrivati a completare a completare il tutto un paio di ho sempre l'abitudine alla fine di lasciare un due o tre roba da portarsi a casa quindi come il cibo da asporto allora non ci eh interessano l'infrastruttura non ci interessa l'infrastruttura ok quindi non non ci non chi se ne frega devo solo pensare all'implementazione quindi è una cosa di meno a cui pensare pago per quello che consumo veramente quindi oppure se ho già un app service plan quindi se ho già una parte di di servizio che pago per il sito web posso usare anche quello ma gli vado a dar fastidio ma comunque pago per quello che uso e alla fine è semplice l'approccio l'iniziale qui scusate ma la transizione è venuta male poi la metterò a posto prima di darvi le slide l'approccio iniziale è complesso perché è un cambio di mentalità siete abituati a pensare a tutto il plumbing code che c'è intorno non vi focalizzate quasi mai cioè vi focalizzate solo alla fine su ciò che fa il singolo metodo qui al contrario partite da ciò che fa il metodo e poi magari andate a capire come funziona quello che c'è intorno e in ogni caso proprio perché sono semplici sono semplici il concetto è calmi e cominciate a usarle perché se cominciate capite come funzionano è semplice vi prendete Visual Studio Code ha un'estensione per le function l'estensione vi scarica anche il tool e cominciate con una function semplice prendete i miei ve lo lasciate i miei github e lì trovate degli esempi un po' più complessi quindi tranquilli cominciate provate a smanettarci non è obbligatorio diventare degli esperti però è importante sapere che ci avete uno strumento questi sono i miei riferimenti all'ultimo arrivano perché così gli insulti arrivano di solito alla fine va benissimo c'è anche il mio linkedin se ci sono domande sono a disposizione hai domande? ci sono domande in lista? grazie mille Max vediamoci c'è una domanda chiede Matteo Ghezza su Azure esistono più sistemi diversi di gestione della coda o solo quello mostrato nella prima demo? guarda quella è la coda dello storage lo storage service è fondamentalmente il servizio che dà storage quindi dà la coda dalle tabelle dà la persistenza dei file esiste anche service bus che ha la coda service bus è è per l'implementazione dell'enterprise service dell'architettura dell'architettura enterprise service bus quindi hai le code e i topic quindi la possibilità di avere publish subscribe quindi uno pubblica e ne ascoltano oppure la classica coda quindi ne hai fondamentalmente due di default sulle function poi se c'hai il tuo implementato in chissà qualche quale modo ti devi implementare il trigger e il binding ok poi c'era l'event grid però rientra nel l'event grid rientra nel routing di eventi non rientra nella coda vera e propria diciamo è più pensato per l'ottica di eventi che non messaging in realtà anche l'event grid però poi dopo ti serve di creare l'event grid è un publish subscribe in realtà perché è un topic n sottoscrizioni la coda invece è uno a uno poi puoi avere n persone che la leggono ma il messaggio è consumato da uno solo mentre nel publish subscribe uno scrive e i messaggi vengono ennuplicati verso le destinazioni che ci sono dietro poi leggo linguaggi e ide allora linguaggi al momento le function supportano c sharp f sharp node.js javascript anche versione typescript volendo java python powershell e la versione cli quindi bash in questo momento attualmente per realizzare l'estensione di linguaggio quindi realizzare il provider che fa sì che voi possiate far generare il vostro linguaggio è complicato perché utilizza un protocollo di trasmissione che è il grpc quindi è un protocollo per interoperabilità tra sistemi eterogenei pensato da google che è uno standard de facto e noi lo utilizziamo prossimamente nel prossimo step delle function si potrà realizzare l'environment del proprio linguaggio basandosi su chiamate http che sarà più facile in questo momento è complesso estendere i linguaggi gli ide in realtà l'ide qualunque nel senso che volendo quelli integrati sono visostudio visostudio code rider digit brain webstorm e clips hanno sicuramente l'estensione per usarle ma in linea teorica uno scrive con il linguaggio che gli pare poi lancia funk start nome della funzione la dll della funzione e il run time le lancia ok ottimo andiamo tutti a bere birra o abbiamo altre domande? se ne avrei ancora una mezza io che vai in coda quello che ti ho fatto prima sei pazienza per due minuti sì sì sono qua io per rialzarti anche all'ultimo incontro che abbiamo fatto quello precedente aveva parlato Alessandro Melchiori che conosci e aveva parlato di Kubernetes quindi giusto proprio una postilla di un minuto e mezzo se tu dovessi dire per cosa sono più appropriate le function per cosa è più appropriato Kubernetes ovviamente basandosi sempre con Azure e per cosa è più appropriato l'app service proprio per dare una dritta velocissima giusto per completare il discorso prima cosa esiste un tool che si chiama Keda che permette di far girare il runtime delle function all'interno di pod Kubernetes primo allora l'approccio è questo parliamo partiamo dal più semplice l'app service ok devo ostare un sito web o ostare una grossa mole di API rest magari immaginate delle API crude che gestiscono delle entità immaginate che voi abbiate una entità avete 5 API ricerca dato singolo inserimento modifica e cancellazione se avete 100 entità more or less sono 500 API farle con le function significa scrivere 500 function che a quel punto diventa equivalente a crearsi un progetto a spread core web di tipo web API e magari però il progetto a spread core web API è più organizzato quindi intanto se ho delle API quando ne sono tante molto strutturate forse è meglio un app service piuttosto che delle API scritte delle function se non sono API rest ma sono lettura da coda lettura dallo storage non c'è alternativa devono essere function perché un app service dovete creare un web job e le function guarda caso si appoggiano sul web job ma le semplificano l'app service ha delle funzionalità di scalabilità automatiche ma dovete metterci della logica quindi dovete dire dietro l'app service c'è un app service che definisce quanto è potente l'app service e un numero di istanze poi potete dire parto da due e metto una logica per cui quando il numero di chiamate supera un certo numero per ogni macchina io ne creo una e la tolgo quando scende ma dovete metterci voi questa logica nell'app service pagate un fee mensile a prescindere anche se nessuno chiama il vostro sito così non è nelle function quindi il confronto è questo Kubernetes è un'altra cosa Kubernetes è un orchestratore di container di pod quindi qual è il vantaggio il vantaggio è io voglio che il mio la mia applicazione anzi la mia applicazione è composta da n container ok che ne so l'ordine la logistica la fatturazione l'amministrazione i dipendenti che ne so ho fatto così ognuno di questi abbia un certo numero di container sempre attivi in un cluster quindi in un insieme di nodi poi mi serve qualcuno che si occupi di spostare questi container e lasciarli sempre vivi questo qualcuno oltre a fare altre cose è l'orchestratore quindi è ben diverso quindi mi serve intanto devo avere un approccio a micro servizi o a più servizi che devono essere orchestrati kubernetes devo reagire ad eventi su roba che non è http function per forza se devo reagire a chiamate http allora se è web quindi su pagine web web app quindi app service se sono api ragioniamoci ragioniamoci tra farle n funzioni o fare un progetto api e lì se ne può parlare ok banalmente ma ovviamente come ti dicevo non è detto che tu non abbia un sito web che poi scriva in una coda una funzione che magari vada a chiamare un servizio che sta dentro kubernetes non so se poi in tre minuti in realtà quello che mi hai chiesto è la z301 per cui in tre minuti la vedo difficile di solito dura quattro giorni quindi no però insomma non esiste al solito una risposta per quanto riguarda me è stato molto chiaro anche questa domanda che ovviamente diciamo presupponeva dietro ovviamente come dicevi tu almeno quattro giorni di corso però ecco una postina secondo me è stata molto soddisfaziente la difficoltà è andare a conoscere questi strumenti non necessariamente esperto perché non puoi essere esperto su tutto nella tua architettura e dici ok qua ci metterò un app service magari tra i due scegli quello perché hai un po' più di conoscenza e ci sta qua metterò kubernetes e poi vai deep sui vari però sono tanti componenti tra loro non è mai una sola così come non è detto che la tua architettura sia solo pass o sia solo sas o sia solo yas molte volte hai una parte yas e una parte pass e nel pass c'hai l'app service c'hai hks e c'hai le function e poi c'hai anche dei servizi che vengono chiamati esternamente quindi capisci che se vai a vedere un'architettura vera è complessa normale certo ok ok direi grazie mille max è stato come sempre molto chiaro quando volete sai che sono sempre a disposizione speriamo allora che tornerai a trovarti ok un attimo interrompo la registrazione ciao a tutti per youtube